Gli occhi e la luce sbarcati in America. Nella puntata di febbraio il dottor Pinelli presenta una nuova, importante conferma scientifica che viene dall'Università di San Diego. La validità della sinergia tra luce e nutraceutica tramite uno specifico protocollo clinico. La luce modulata attiva la fitochimica naturale intracellulare con l'impiego del Lugano Protocol nelle patologie degenerative retiniche. Il connobbio tra fotoni e fitochimica è un'evidenza scientifica che interessa le neuroscienze e apre nuove prospettive di ricerca anche nel campo delle patologie neurologiche. Non perdere il Box Pinelli di venerdì 11 febbraio alle 21 su Telecolor LCN18 in Lombardia, ETV Rete7 LCN10 in Emilia Romagna, ETV Marche LCN12 nelle Marche, Telecolor LCN10 a Trento, ETV Umbria LCN14 in Umbria, ETV Friuli LCN16 in Friuli, ETV Liguria LCN12 in Liguria, 19 LCN19 a Trento Alto Adige e Canale Nazionale Salute e Natura LCN82.